Carissimi amici, carissimi amiche, ancora bentrovati sul canale. Stamattina volevo fare un breve video su un caso di cui non ne abbiamo parlato perché sembrava un banale caso di, diciamo ahimè, di intossicazione alimentare per cui aveva trovato la morte ad Ariano Irpino qui in Campania di questa signora Gerardina Corsano, 46 anni, che era stata intossicata, si diceva, dopo aver cenato, dopo una pizza, insomma, insieme con il marito Angelo che poi comunque si è riuscito a salvare. E quindi sembrava, diciamo, ahimè, una intossicazione alimentare che aveva portato alla morte della povera Gerardina e si era parlato di Botulino, cioè non si sapeva all'inizio perché poi, come al solito, diciamo, dispiace criticare il sistema sanitario, tanto è vero che si è stata sotto inchiesta poi anche il medico del pronto soccorso perché questa donna aveva effettuato ripetuti accessi al pronto soccorso ed era stata rimandata a casa perché lei aveva, insomma, mal di pancia, mal di stomaco, tutti questi, diciamo, questi episodi che sicuramente dovevano essere attenzionati maggiormente. Poi, alla fine, alla fine poi non ce l'ha fatta, ecco. Quindi il marito è stato più fortunato, insomma, è stato ricoverato al Cotugno, a Napoli e si è riuscito a salvare. Cosa è successo? Perché facciamo il video? Perché si era parlato poi di Botulino e poi è il risultato dell'Arianarsi che non c'entra niente e la stranezza è che nessun altro, ecco, in questo ristorante, diciamo, ristorante e pizzeria, insomma, nessun altro, questo ristorante e pizzeria di Ariane Irpino si è sentito male per nulla. In via cautelare era stato chiuso il ristorante, messi sotto inchiesta, pure indagati, questi titolari della pizzeria. Però sembra che su di essi non ci sia niente, non ci sia niente perché se ci fosse, come dire, un alimento diciamo che serviva per la preparazione, non so, di queste pizze, certamente avrebbe dovuto far del male anche ad altri. E allora come mai soltanto ai due coniugi e così stranamente e ancora di più a Gerardina. Allora cosa è emerso? Che si ipotizza, adesso si devono fare ancora delle ulteriori analisi, l'avvelenamento da pesticida. Ecco, come può essere avvenuto questo avvelenamento da pesticida che evidentemente non si sa, non può essere che sia stato messo nella pietanza. Ma allora è soltanto una casualità. Ma il problema qual era? è che i coniugi avevano un'azienda avevano un'azienda in cui si lavorano, si lavora con dei pesticidi per motivi agricoli, diciamo così. E allora si dice, vabbè, quindi saranno stati a contatto, non so, con questi pesticidi che poi avranno dato questi fenomeni così importanti. però il problema qual è? È che erano anni e anni che essi avevano e hanno questa azienda e che questa azienda lavora nell'ambito anche con questi pesticidi e non è mai successo niente e non sembra che quel pomeriggio, quel giorno chissà quali stranezze avessero fatto in contatto con i pesticidi. È così pesantemente. Voi capirete che non basta un semplice tocco, un'inalazione così per avere una forma di avvelenamento di questo genere. Quindi qual è il problema? È che molto difficilmente può essersi trattato di un avvelenamento fortuito, di qualcosa di cui non ci si accorge. Cosa si deve pensare? Che è stato messo nell'alimento? Che qualcuno l'abbia messo nella pizza che mangiavano? Possibile mai che si debba ricordare a queste ipotesi? Perché nel momento in cui nella giornata essi stavano in azienda e stavano normalmente se fossero venuti a contatto con una sostanza nociva gli effetti come è stato detto anche in trasmissione ieri gli effetti di un eventuale avvelenamento sarebbero cominciati pochi minuti dopo. Non è che poi dopo 5, 6, 7 ore di sera cominciano improvvisamente gli effetti così devastanti e subito dopo aver cenato. Capite cosa dico? Non si può andare ecco dopo dopo 5, 6 ore cioè la sera si va normalmente anche con amici no? A cenare senza alcun tipo di sintomo e all'improvviso succede questo quindi se viene confermato perché si parla di avvelenamento da pesticidi se viene confermato questa cosa ecco perché vi invito a stare in contatto così perché dobbiamo vedere effettivamente questo caso come sviluppa e allora si può parlare ahimè di un avvelenamento e e c'è insomma il pensiero che possa essere un avvelenamento di tipo volontario non si sa di chi non si sa come non si sa perché però è questo sono questi tipi di analisi che si stanno aspettando perché non può essere vi ripeto un qualcosa di occasionale non può essere ecco perché noi non abbiamo dato conto di questo fatto che è avvenuto il 28 di ottobre quindi vabbè non tanto tempo fa il 28 di ottobre e che io avevo seguito e mi ero dispiaciuto dicevo vabbè ogni tanto capitano purtroppo queste tragedie alimentari ma sembra che la cosa non sia di così facile lettura quindi seguitemi nello sviluppo di di questo caso perché adesso faranno ulteriore indagine e si capirà quale tipo eventualmente di pesticidi esattamente e si ricostruirà insomma la modalità di assunzione perché qualcosa di strano c'è in questo caso ma veramente veramente molto strano quindi per il momento questo è tutto per quanto riguarda la morte della povera Gerardina Corsano 46 anni di Ariano Irpino e vi do appuntamento prossimamente quindi domani o nei prossimi giorni quindi buon fine settimana a tutti grazie e un abbraccio a tutti quanti voi di